A seguire prima il passaggio del trattore si tenga pronto il numero 247. A seguire prima il passaggio del trattore si tenga un palazzo. A seguire prima il trattore si tenga un palazzo. A seguire prima il trattore si tenga un palazzo. A seguire prima il trattore si tenga un palazzo. A seguire prima il trattore si tenga un palazzo. A seguire prima il trattore si tenga un palazzo. A seguire prima il trattore si tenga un palazzo. A seguire prima il trattore si tenga un palazzo. A seguire prima il trattore si tenga un palazzo. Il trattore si tenga un palazzo. A seguire prima il trattore si tenga un palazzo. A seguire prima il trattore si tenga un palazzo. A seguire prima il trattore si tenga un palazzo.